TALES OF ARISE 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 Non mi sembrava che veniva con un ragazzo, ma che non si può. Ma... ma... Non mi sembra. Non mi sembra. Mi sembra che ci sono andato. Ora è bene. Sì, non è abbastanza. Andiamo, tutti ci aspettiamo. Ma... ...è stato un po' ...è stato un po' ... ma non è stato un po' ... ma non è più vicino ... se per il loro cosa, ... non ciò che riesce a farlo ... non è così... ... non è così... ... ma non è così... ... non è così... ... non c'è ancora qualcosa di più... ... non c'è ancora qualcosa di più? Ok, mappa È il punto di trovo di Pelagion livello 3 Ah, qui Ok Non c'è il viaggio rapido, quindi Andiamo indietro a piedi Ok Ora bisognerà dare la caccia a quella Sì La mascarlatta, presumo Non si sa bene Chi sia Giardini pensili Ah, non ho visto Ah, se non sono noi due Vabbè, non ho molti punti Quindi niente Come non detto Piazza in questo centrale Qua mi posso anche buttare Ok Ok, ingresso principale È giusto di qua Siamo sicuri Sì Qua C'è qualcuno Eh sì Ha voglia Pulire qui C'è Qua c'è Apparsa la signora A parte che c'è tutto pulito Però C'è Ah, è vero, sì. Non c'era il nostro corso. Grazie a tutti 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 Non vedo l'ora Grazie a tutti Tutto bene Tutto bene? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E' riuscito a tutti Ok Ok E poi avevamo... E poi avevamo... Qua livello 2 Qua livello 2 Qua c'è un gufo... C'è un bambino... C'è un bambino... C'è un bambino... C'è un bambino... Che faceva quel crack flamma... Era rosso... Scoppiettava e ruggiva... Rosso rosso... Ho capito... Deve aver visto qualche zugo che sputava fuoco... Fuoco ma naturalmente... Quindi lo sciabordio è l'acqua... Il lamento è il vento... E la forte esplosione... Eri per caso tu Ringwell? Perché io? Perché quando ti arrabbi... Comincia a scagliarmi contro fulmini... Il rumore che fai è esattamente quello... Di questo ragazzino come potrebbe saperlo? Boom... Sei la signorina... Boom boom... Hai visto... Persino lui è d'accordo... E ti è appena conosciuta... Se avete finto di prendermi in giro... Ci sarebbe ancora un pericoloso zugo da sistemare... Che c'era via il mostro che fa paura signorina... Sì? Puoi scommetterci... Non preoccuparti... Penseranno a tutti i grandi... Se l'hai incontrato fuori città... Magari lo troveremo nel paura di Love2... Qualsiasi cosa si tratti... Sembra pericoloso... Forza chiacchierottolo... Sarebbe questo il soprannome che mi ha affibiato? Vabbè... Le solite missioni di... Ammazza... Sì... Il zugo della zona... Va bene... Alta la natura... Ehm... Vediamo... Ah è qua... Vediamo... Ah sì... Giusto... Aspetta... Ok... Ok... Poi allevare altri animali... Rappig... Va bene... Alleva bestiame... Facciamo un po' di questi... Ok... Ok... Per pecola... E cavallo... Ok... Ma... Dove... Ah là... Forse... Andiamo... Per vedere... Per andare qua... Ah... Sarà uno... Di un certo livello... Forse potevo fare così... Guarda... Forse è meglio... Vediamo... Noi siamo a livello... 35... Attenzione qua... Ok... Questo è... Eccolo lì... Eccolo lì... Vediamo un po'... Se è... Un... Miniboss... 42... Mmm... È un miniboss... Forse devo aspettare... Va bene... Ma comunque... Sono in due... Eh sì... Eh sì... Aia... A parte che... Ringwell... In squadra... Aspetta... Scusa è... Aspetta... Anche Dolly... Mi hanno cambiato... Ehi... Non ho guardato... Vabbè... Adesso sono in quattro... Adesso sono in quattro... Aspetta... Adesso... Eh... Almeno... Donim... A terra... No... Ah no... Si è rialzato... Allora... Non l'abbè... Non lo... Non ho guardato... Non lo faremo... Non lo faremo... Perciò... Non lo faremo... Non lo faremo... A caso... Non le faremo... Non lo faremo... Non lo faremo... Eh... Ci occupiamo di questo... Poi non lo so... a meno che gli altri sono delle coppie si vai un po' più vicino ok l'ho preso vai aspetta ok ok qui ne ho preso almeno sempre due aspetta ok ok il nucleo è abbastanza debole si può sfondare facilmente ok ce l'ho ce l'ho aspetta ok così vanno a tev questo no però aia aia no c'ho qualche ne ho due ok aspetta no 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 aspetta ha preso tutti non lo posso fare risurrezione ok perfetto ok adesso perfetto aspetta hanno fatto ci avevo quello generale mi sa di no facciamo i gelatini alla pesca aspetta un attimo che l'ultima bottina della vita gelatini all'arancia aspetta eh mi lo fanno fare no aspetta ah ho sempre loro due anche ma chissà adesso ci vanno giù pesanti ah io faccio si ok dai questo però è di fuoco non va molto bene aspetta l'ultima bottina della vita andiamo a lei aspetta fammi una cosa fammi così ecco fammi così no shone è a terra non posso resuscitarla però lo può fare doli ma è terra anche lui quindi non ci siamo aspetta cioè caracca però posso fare così aspetta ecco nulla alterazioni fisiche si usiamo questa dai ok via 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 c'è qualcosa che mi segue aspetta shone è sempre a fare due palle però shone è a terra aspetta no dov'è e is here ok dai dai via 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 Eh, non posso farlo E a parte che Ah, Dolim però È in piedi, attenzione Ahia Ora è uscita qualcuno, Dolim Dolim Ecco, bravo, no Dolim Eh, cavolo, è morto Oh, aspetta Ok, lo interrotto E qua, va Ahia Eh, via, via un attimo Girattina alla rai E poi farò il pieno Sono andato un po' così qua, eh Ok, vai Perché c'è un tornato in arrivo Punto Poi c'è il fuoco Hop, hop No Dammi Sbagliato tasto Ok Oh Vai, sciomini qua Ok Ah, l'abbiamo battuto, eh Insomma Fiore e maio Anche 20 punti Che PC massimi Ok Direi perfetto Però No Non volevo fare così Ho sbagliato Qua va bene Ah, torniamo qua Allora Facciamo un bel riposo Ma sì Cuciniamo Cosa Aspetta Qualcosa Dino Pesa M Sì, dai Perfetto Cucina Più 15 E Quanti dialoghi Andare con Sion Ovviamente Sion Eh Insomma Cosa Cosa C'è un'unica, ma... ...qu'è un'unica... ...qu'è questo... ...qu'è l'unica che ha fatto a Renegis? C'è un'unica? ...qu'è non lo dire? ...qu'è non lo dire? ...qu'è non lo dire? ...qu'è un'unica? ...qu'è un'unica? Guardati, ma... ...qu'è un'unica... ...qu'è un'unica? I pensé che quello che t'obende prima... ...qu'è... ...qu'è una persona che rendita con chi, Paul... ...Qu'è una persona che ha vinto? ...qu'è un'unica che non è un'una... ...qu'è avuto il il entadio? Certamente ...qu'è un'unica che io sia un'unica... Alla prossima Allora A questo punto posso vendere qualcosa, sì E aspetta, vediamo se c'è altro Che ho in grandissime quantità Non mi sembra Ma è questo, dai 55 sono un po' tante Ok Così compro Tira della vita Magari non in massimo, facciamo 10 dai Ok Gelatina all'arancia Comunque serve, non il massimo E il resto Sì, tanta roba, un po' così Vabbè, aspettiamo Lei è attaccata ai soldi, vabbè, ok Dunque, andiamo Qui A informare Non mi ricordo già più chi Della missione completata È il bambino Hai scacciato il mosso spaventoso Sì, ora non c'è più niente di cui aver paura Su serio, non ti ha fatto male, vero? No, non mi ha fatto nulla Perché sono un'adulta grande e forte Fino a un certo punto Grazie signorina Sei gentile Ti voglio bene Oh, certo che questo ragazzino Non ha alcun timore a mostrare i suoi sentimenti Ringwell Cerca di non biglionare il fuori città da solo L'ora in avanti Sintesi? Certo, ci vediamo signorina boom boom È ancora convinto che sia Signorina delle esplosioni In fin dei conti non mi dispiace Forza, chiacchierottolo Cosa parli? L'ho già fatto Vabbè Ok Concipessa dei fulmini Glamentata da BIA Ah, ecco Qua ne ho guadagnata un po' Facciamo Agevoliamo oltre il limite Sì Questa è una mossa d'acqua Agevoliamo Applicazione di alterazioni fisiche ai nemici Accedere al recupero della BIA Forse è meglio Sì Sì Do alim Com'è un'altra parte di alterazioni fisiche ai nemici Colpi Ringwell Facciamo i pisti di ABA con colpi critici Sono un po' di mosse Lo saprei E' un'altra parte di alterazioni di attacchi necessari per attivare il risveglio Incremento Dani Assalto Boost Facciamo questo E' un po' di marzo E' un po' di E' un po' di E' un po' di ما E' un po' di non c'è un viaggio rapido però qua cascate aure cascate e qual è il questo qua è il viaggio rapido ingresso cascate aure eh si devo farmi un pezzo si un pezzo di di mappa aspetta eh qua vero? no eh si ciao stavo proprio sbagliando strada eh però adesso eh no ce l'ho fatta no non mi fa salire perchè ero però se ci sono dei nemici di fronte eh già mi sono dimenticato anche di cambiare ok un attimo però che io voglio mettere le cose come erano prima ok ok vediamo se incontriamo altri nemici qua si devo andare di qua, livello centrale cascate eee forza oh 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 bello questo golly merenguel ok era su di qua si andiamo a passo in mezzo ush ok quindi la zona è questa e sarà quello non penso sia questo bello e' qua per forza ok ok e' qua e' qua e' qua ok ok che che sono questi mi sa e' qua 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 no no non è che non è attiva aspetta e' qua ok questo fa questo fa lo strumento mantine ok ah 5 ah ecco ok ne mancano due da sconfiggere aspetta aspetta fammi battere loro va aspetta fammi battere loro va un po' di sfonda ma no 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 e no 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 Eh, super No Vabbè Ok, ma Non hanno loro Dov'è il boom selvatico? Qua non c'è Eh, ma qua ci sono quattro nemici in croce Scusa, eh Lui non è Cioè, ho battuto quei tre Beh Se vado più su Eh no, vedi La zona dice che Quella sotto Che qua ce ne sono altri Ma quale? Aspetta, no Eh no, perché la zona è sotto Uscita Se no la faccio al contrario La faccio al contrario A sto giro Cioè, devo andare via e tornare Perché ce ne sono solo tre Torno indietro Quindi vado giù Eh, non di qua Ah, qua c'è sempre La cura Beh, qua vado proprio addosso Ok Ok. Qua vado giù, anche qua gli vado addosso. Qua vado giù. 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 Qua vado giù.